Ma Sasha Banks e Naomi sono ancora con la WWE, sono state licenziate, cosa sta succedendo attorno a loro? Nessuno lo sa, le informazioni sono contraddittorie. Allora, stando al Wrestling Observer, e l'ho verificato, sia la boss che la ragazza della luce sono ancora nel roster a schermo sul sito ufficiale della compagnia. Quindi questa potrebbe essere un'indicazione. Inoltre, sempre stando a questa fonte, sono in corso dei tentativi di riavvicinamento, lenti, tranquilli, pacati, ma qualche ponte prova ad essere costruito. Di opinione diversa, invece, è Rai Giri. Firma, più importante, anzi credo fondatore di Wrestling Inch, che aveva diffuso la notizia del licenziamento di Sasha qualche settimana fa. E qui, in un tweet, scrive, per quanto ne so io, la boss è stata licenziata il 10 di giugno da Erika Schreiber, vicepresidente della sezione Business e Legal Affairs for Talent Relations. Quindi, stando a lui, conferma che le sue fonti dicono che è stata licenziata. Ma perché? La notizia non verrebbe a galla. Stando a questa fonte, c'è stato un accordo tra le parti per un reciproco silenzio. E in più, sì, dopo il licenziamento, la WWE starebbe comunque valutando e verificando se ci sono gli estremi per riprendere Sasha a bordo. Andando a leggere altri tweet, spiega, secondo la sua visione, che la federazione, in questo periodo, con l'indagine ai danni di Vince McMahon, sta ricevendo una pubblicità non certo positiva e un licenziamento così importante di una star così tanto amata potrebbe aggiungerne altra. Quindi, una ricucitura, un torna tra noi, potrebbe in qualche modo calmierare le cose, ma sicuramente un annuncio di licenziamento andrebbe a peggiorarle. E allora ecco che vige la regola del silenzio, probabilmente concordata tra le parti. Queste sono le news che girano, però, come vedete, di ufficiale non c'è niente e divergono. Quindi immagazzinatele e ragionateci su.